L'agopuntura è molto adatta per la terza età, per qualsiasi problema. La terza età è uno dei luoghi preferiti dell'agopuntura, gli altri luoghi sono la gravidanza, dove meno si usano farmaci, meglio è, e poi anche il discorso di pazienti che assumono politerapie, il più frequente è il discorso di pazienti con sindrome HIV correlate, è un lavoro che facciamo da tempo in malattie infettive a Pavia, dove tutti i dolori vengono trattati, sono stati trattati per un certo tempo con l'agopuntura. A questo punto un'altra indicazione è proprio quella del discorso di pazienti con epatopatie, perché anche in questo caso è bene usare l'agopuntura per i dolori, in quanto in questa maniera si evitano interferenze fra i vari farmaci. Tornando invece al discorso della terza età, prima di tutto c'è discorso anche per star bene, Confucio è vissuto sino a tarda età in ottima salute facendo la moxa, la moxa magari la faremo vedere prossimamente, è un modo di stimolare l'ago con il calore, la cosa più frequentemente usata sono i sigari di moxa e in questa maniera come del resto con l'agopuntura, perché in realtà l'agopuntura come nome completo si chiama agomoxibustione, si stimolano i punti e l'agopuntura nasce essenzialmente come medicina preventiva, anche se questo discorso in occidente non è ancora abbastanza valorizzato, io ho fatto come Università di Pavia e come mia società un convegno già alla fine degli anni 80, proprio su questo discorso della medicina preventiva. Poi ovviamente nella terza età abbiamo problematiche che possono essere artrosi, possono essere lombosciatalgie, periartriti, poi tutte le problematiche che possono venire a tutti, quindi ansia, depressione, sono problematiche di tutte le età, però perché è particolarmente interessante il discorso della terza età? Perché nella terza età spesso capita di dover assumere vari farmaci e più farmaci ci sono, anche scelti in maniera tale che non interferiscono fra di loro, più c'è la possibilità di avere interazioni, quindi in terza età si ha la possibilità di avere più frequentemente rispetto a altre categorie interazioni tra i farmaci. Questo permette anche di ridurre il numero dei farmaci, è estremamente importante. Poi anche per chi non la prende, chiaramente la metabolizzazione dei farmaci nella terza età non sempre è ottimale, quindi è anche importante anche per queste persone la scelta di curarsi unicamente con l'agopuntura oppure un trattamento misto in modo che il carico farmacologico sia ridotto. Il discorso della terza età è sempre più importante, è legato anche proprio a un discorso dell'arte del viver bene. L'arte del viver bene che è quella di fare attività fisica, di tenersi allenati anche come mente, questo è fondamentale perché la mente a volte io la paragono proprio a un muscolo, come la muscolatura va allenata e chiaramente in terza età bisogna scegliere degli esercizi che siano adatti a quella determinata persona perché non esiste un'attività fisica specifica di una terza età, comunque le attività violente sono sconsigliate, anche la mente va tenuta allenata, quindi leggere, parlare con gli altri, è importante molto socializzare, ad esempio anche l'università della terza età è una cosa eccellente. Quindi rientra in tutta una serie di indicazioni che troviamo anche nei libri antichi della medicina cinese, in cui l'agopuntura è un ulteriore supporto e è importante nel discorso proprio preventivo perché si curano i disturbi prima ancora che si manifestino, quando sono a livello di alterazioni energetiche che viste in chiave moderna sono delle alterazioni dei sistemi omeostatici del nostro organismo. Grazie.